Le maschere, i bimbi con i coriandoli e le stelle filanti. È stato un weekend coloratissimo con il Carnevale di Santa Rufina e i cavalli infiocchettati di Rieti. Tutti in strada, complici anche le temperature più elevate della media, per accogliere il periodo più colorato e scherzoso che ci sia. A Santa Rufina il corso mascherato è giunto alla sua 32esima edizione, con i carri che hanno sfilato in Via Toiatti, Via Don Mario d'Aquilio, Via Primo Maggio e Via Dello Sport, per un trionfo di colori, musica e divertimento che ha coinvolto l'intera comunità, dalle associazioni locali, le scuole, le aziende e gli abitanti del luogo che si sono uniti per creare un momento unico. Grande partecipazione anche per la tradizionale sfilata dei cavalli infiocchettati in centro, nel ricco cartellone di eventi voluto dall'Associazione Porta d'Arce, il Clu Domenica con cavalieri e amazzoni tra le vie del centro storico, ma anche con i primi bimbi mascherati che, a bordo strada, hanno accolto la sfilata. Di fatto parte così anche il Carnevale in città, che culminerà con il corso mascherato l'11 febbraio. Intanto il prossimo weekend doppio appuntamento, il 3 febbraio a Villa Reatina e il giorno dopo il 4 febbraio a Contigliano, appuntamento ormai consolidato del Carnevale Reatino che richiama tantissime persone in Via della Repubblica e in Piazzale degli Eroi.